Buongiorno cari telespettatori di Fano TV, ben trovati, ben alzati e buon primo caffè probabilmente per molti di voi. Inizia questa nuova giornata all'insegna dell'informazione qui su Fano TV, siamo in diretta, sono le 7.30, passate da qualche secondo, come tutte le mattine siamo qui per mostrarvi le notizie principali sui giornali, quest'oggi ce ne sono diverse, cercheremo anche di farvele vedere tutte, tutte quelle che abbiamo preparato sul nostro touchscreen, ma come sempre spazio all'almanaco con la grafica del nostro regista Riccardo Sora e l'almanaco del giorno che quindi oggi per mercoledì 5 settembre la chiesa osserva madre Teresa di Calcutta, conosciutissima nonché anche la patrona di Colli al Metauro, quindi eletta patrona anche per il neonato comune di Colli al Metauro, il sole è sorto alle 6.35 e tramonterà alle 19.38. Bene, madre Teresa di Calcutta naturalmente non ha bisogno di alcuna presentazione, tutti sappiamo cos'è, cosa ha fatto nella sua vita e perché è stata santificata. Nelle previsioni di oggi, mercoledì, troviamo questo, il cielo è sereno, poco nuvoloso, salvo lo sviluppo di medesimi cumuli nelle zone montane durante le ore più calde della giornata. Lo schema più o meno avete capito ormai da diverso tempo è questo, c'è sicuramente maggior variabilità dal punto di vista meteorologico sui rilievi e sulle zone interne, però grazie per non esserci precipitazioni oggi e anche con le temperature in lieve aumento, ce ne siamo accorti anche nella giornata di ieri, c'era sicuramente una temperatura che ricordava di più le giornate più calde, soprattutto nelle ore centrali. Anche per domani, giovedì, scompare quel poco di nuvolosità che c'era sulla costa, sereno, poco nuvoloso, addensamenti più nelle zone interne anche qui durante le ore più calde della giornata, senza pioggia anche la giornata di domani, almeno sulla carta, che però insomma un fronte freddo fa ingresso nel nostro quadrante nella giornata di venerdì e che vedete porta subito un po' di pioggia e nuvolosità intensa anche a carattere di rovescio, soprattutto sui rilievi, quindi cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, vedete compaiono due nuvolette anche di un grigio abbastanza intenso, sparse a carattere di rovescio, probabilmente però nell'evoluzione della giornata questi fenomeni si attenueranno verso la serata, temperature stazionari o in lieve diminuzione. Questa è la previsione per lo meno del tempo sulla carta, come sempre diciamo c'è sempre un'area di variabilità sulle previsioni del tempo, almeno oltre le 24 ore. Tante pagine come vi dicevo in apertura e quindi vi porto subito nelle pagine dei giornali. Iniziamo con il Corriere Adriatico che dedica la fotonotizia al cantante, uno dei pilastri della musica popolare italiana, Claudio Baglioni che si racconta al Corriere che dice le Marche, la mia tappa preferita. Doppio concerto, il cantautore a ottobre sarà ad Ancona con il suo tour e già è da tutto esaurito. Quindi insomma Baglioni elegge le Marche a suo luogo preferito, ne siamo tutti felici di questo. Scuole però è l'apertura del Corriere Adriatico che è per le scuole e la loro messa in sicurezza, si riaprono come abbiamo detto anche ieri fra qualche giorno le scuole e qui insomma si riapre un attimino anche il tema di sicurezza su questo fronte, lavori per mezzo milione di euro. Comune darà a Pesaro la priorità alle strutture dove sono stati segnalati ammaloramenti e poi grave c'è anche la cronaca nel Corriere, grave un anziano ciclista urtato da una motocicletta e l'incidente è avvenuto sulla strada statale adriatica più o meno a Marotta. E allora vediamolo questo mezzo milione di lavori con tutta una sequenza anche di interventi che potete vedere qui, quali sono i luoghi e i tempi, mezzo milione di lavori per le scuole più sicure, nidi, materne, primarie e medie. Il Comune andrà avanti negli interventi fino ad autunno inoltrato interessati quei plessi dove i sopralluoghi hanno evidenziato delle criticità che devono essere naturalmente messe a posto. Pesaro Studi riapre ma solo per un giorno, la Politecnica delle Marche ha organizzato l'orientamento, poi si parla di vaccini e anche a Pesaro il Comitato, la scuola che accoglie, dice non escludete i bambini dai nidi non vaccinati. Quindi questo è l'appello dei componenti pesaresi del Comitato nazionale, la scuola che accoglie, sempre naturalmente nel rispetto della salute anche degli altri. A Pesaro si continua a indagare sul delitto di Sabrina Malipiero, sono entrati nell'appartamento di Zaccaria Safri, il marocchino 38enne in carcere accusato dell'omicidio di Sabrina Malipiero, la 52enne accoltellata nella sua abitazione in via Pantano, l'omicidio è avvenuto il 13 luglio scorso. Che cosa si cercano? Si cercano tracce organiche, tracce biologiche della vittima nell'appartamento, quindi smontato il filtro del tubo della lavatrice per cercare eventualmente se sono stati lavati dei panni o qualche cosa per inchiodare l'assassino e quindi la polizia ha smontato l'elettrodomestico alla ricerca di tracce della vittima. cronaca, tanta cronaca nelle pagine dei quotidiani questa mattina, soprattutto anche sulle strade, schianto con l'Harley Davidson ferito un centauro a Urbani a scontro a Peglio con un fuoristrada. Il motociclista è stato soccorso dall'eliambulanza. Andiamo a Fano perché la vicenda carnevale non è affatto chiusa, affatto archiviata perché adesso c'è un dietrofront dei dimissionari che ci ripensano e dicono volevamo una scossa dalla città che secondo loro ha reagito, confronto pubblico sul carnevale, Ricciatti e in Serra invitano all'unità del Consiglio di Amministrazione e anche a Alfredo Pacassoni, Francesco Roscilioni e Fabiola Pacassoni, i tre dimissionari che vedete qui nella foto, a ripensare. Ricciatti gli scrive una lettera dicendo stracciate quelle dimissioni. Siamo quindi pronti a ripensare a un passo indietro? Questo hanno risposto i tre che vedete appunto qui nella foto e vedremo come andrà a finire anche perché nella giornata di giovedì, chiedo scuso vi volevo far vedere un'altra cosa, nella giornata di giovedì ci sarà il Consiglio di Amministrazione appunto della Carnevalesca e quindi sapremo altri dettagli su questa cosa. Il Paglio delle Contrade, la pioggia non spegne l'entusiasmo, ma anche il Corriere Adriatico fa un focus sulla manifestazione che è arrivata alla Rocca Malatestiana e ha sicuramente dato grande prova di tenuta, nonostante il tempo non gli abbia dato una mano a questi ragazzi, ma hanno dato fondo a tutte le loro energie per regalare un gran spettacolo, un gran bello spettacolo alla cittadinanza e ai turisti che cedero. Vedete qui un'immagine dell'atto finale, l'assalto, l'assedio alla Rocca dove c'era naturalmente lo zempino del regista Castellani, molto spettacolare, molto emozionante questo spettacolo che sicuramente verrà riproposto l'anno prossimo. Pincio, trasferimenti, Pincio transennato per i lavori, inizia la stagione dei cantieri, qualcuno passando di lì se ne sarà accorto, il 18 settembre avvia l'intervento anche nel sottopasso del Lido, poi si passerà alle scogliere. Questo è il crono programma dei lavori pubblici del comune di Fano, intanto dal Val Cesano, praticamente a Marotta, vi dicevo grave, un anziano ciclista per essere rovinato, caduto abbastanza violentemente sull'asfalto in un tratto a rischio, lo vedete questo qui, se riusciamo a individuarlo più o meno, si è lungo la, ecco qui c'è il cartello di Marotta e qui ci sono i capannoni industriali, quindi all'uscita di Marotta. Sull'asfalto questo anziano ciclista aveva, ah scusate, 74 anni ed è stato portato, naturalmente di Falconara, è stato portato al torrete di Ancona per la caduta. Ancora nelle pagine, l'ultima che vi faccio vedere del Corriere Adriatico, quella di Senigallia, che anche qui la tecnica dell'abbraccio per portarti via catenine, portafogli e quant'altro è di casa, la distrae e poi le strappa la catenina, anziana disabile, addirittura derubata sotto casa, non c'è veramente fine all'indecenza, la 79enne era nel giardino quando è stata avvicinata da una donna che poi è scappata con la sua collanina, collanina d'oro. Va bene. A Pesaro, il resto del Carlino focalizza la fotonotizia per la stagione estiva che ormai chiude i battenti, turismo gran finale, stagione salvata da un ottimo agosto, ma l'apertura è per i nuovi appartamenti di edilizia popolare che, previsti in via della vetreria, l'intervento è di 3 milioni e mezzo per 12 alloggi, quindi il comune cede all'ERAP l'ex orfanotrofio delle zoccolette e quindi insomma nuovi insediamenti popolari a Pesaro. Ancora, vi ripropongo dalla prima pagina l'articolo che fa un po' il focus sull'estate, sulla stagione appena andata, agosto ha risistemato l'intera stagione, insomma ci si è aggiustate un po' le ossa solo col mese di agosto. Il programma anche di settembre che ha come si suol dire un po' gli eventi conclusivi e poi il coro unanime degli operatori che è appunto questo. è andata bene naturalmente con questo agosto che ha riempito alberghi e strutture e da segnalare un po' come è avvenuto anche a Fano, anche con Luciano Cecchini che ne ha dato notizia, c'è stato un ritorno degli stranieri segnalati da molti operatori, soprattutto del nord Europa e quindi questo è sicuramente confortante. Nuove case popolari in centro, ecco vedete questa è la via, Erap recupererà l'ex orfanotrofio che ora è abbandonato in via della vetreria chiuso da tanti anni, l'Erap lo recupererà appunto per dare vita a questi 12 alloggi di edilizia popolare. Avete visto ieri nelle pagine dei giornali che era riportata la notizia di quell'extracomunitario malmenato lasciato possiamo dire quasi in fin di vita con la testa rotta al parco Miralfiore e si alza naturalmente anche la voce della politica, Fratelli d'Italia, Bacchiocchi dice il parco Miralfiore è ormai una bomba a orologeria e quindi interviene sul giovane gambiano pestato e drogato. Ennesimo episodio di sangue avvenuto nella notte al parco Miralfiore e vedete qui i carabinieri che presidiano anche con unità cinofile proprio per scovare nascondigli o droga nascosta nei cespugli come spesso avviene. Presi i razziatori delle chiese, uno dei giovani arrestati aveva rubato anche a San Cassiano calce d'argento e piscide arrestati un 34enne catenese e un bidello di 55 anni. Subito dopo il furto hanno portato spesso il bottino in alcuni compro oro per cui parte della refurtiva è stato possibile recuperarla. E poi l'UMPLI provinciale attraverso il suo presidente Damiano Bartocetti che vedete qui nella foto annuncia il servizio civile nelle proloco, saranno disponibili 11 posti per esperti in informatica, nuove tecnologie, potranno essere impegnati negli eventi, agli sportelli di informazione turistica per tutte naturalmente le proloco del territorio e qui insomma tutti i particolari nel trafiletto di spalla qui sul resto del Carlino. A Piano del Bruscolo però si punta il dito sul degrado nella zona industriale di Talacchio, è troppo abbandonata, lamentere anche per la differenziata, la raccolta differenziata, guardate un po' queste foto che ben danno l'immagine e la contezza della situazione proprio nella piana di Talacchio, di scariche abusive, panchine con spazzatura, insomma direi che è tutto molto alquanto eloquente. Andiamo a Fano perché il resto del Carlino porta in evidenza le lamentele di alcuni operatori commerciali nella zona del Porto, sapete che questo fine settimana Aria, la manifestazione che parla della vostra casa, della casa di tutti noi, è arrivata al Lido, al Pincio ci sono i lavori e quindi non era possibile farla lì e quindi si è pensato insieme all'amministrazione comunale di farla nella zona del Lido e del Porto e chiaramente venerdì, sabato e domenica ci sarà l'apertura, i giorni della fiera, però gli stand vanno montati e quindi bisogna presidiare la zona e anche la sicurezza di chi li opera e quindi la strada è chiusa al traffico, non ai residenti, gli esercenti però della zona insorgono, dicono la fiera dura solo tre giorni, che senso ha a chiudere da oggi e lamentano appunto una caluta, una calata degli incassi perché manca il solito passaggio delle auto che magari si fermavano e acquistavano qualche genere alimentare appunto nei negozi lì a ridosso, come vedete la zona è questa, qui c'è la confraternita del Fico e qui di fronte ci sono dei negozi, ci sono degli esercenti commerciali, qui c'è la capitaneria, insomma quindi è una zona servita e alle volte chiaramente queste operazioni creano qualche disagio. Di missionari ci ripensano, anche il resto del Carlino di Fano attira l'attenzione su questa vicenda che insomma sicuramente ne sentiremo parlare, il Carlino dice che i ribelli sono stati convinti a rientrare ieri dal sindaco Seri che li ha voluti incontrare dopo la conferenza stampa invitandoli e cercandoli di convincere, vedremo adesso se le dimissioni potranno essere ritirate non potranno essere esigrate, insomma si aprirà un fronte, certo che un punto di svolta si avrà giovedì con gli esiti del Consiglio di Amministrazione della Carnevalesca. E poi una scaramuccia della politica qui sulla pagina del resto del Carlino tra l'ex assessore Del Vecchio e il sindaco Massimo Seri, botta e risposta, Seri aveva risposto a Del Vecchio sul degrado della periferia di Carrara dicendo che quando era assessore lui si erano asfaltati solo pochi metri di strade, compresa anche quella sotto casa sua, Del Vecchio risponde dice accuse pesanti ma non querelo e rimane un po' basito per l'attacco personale del primo cittadino. Andiamo a Urbino dove si dà notizia della chiusura di un esercizio commerciale che ha fatto un po' la storia dell'arte, dell'artigianato e del design, l'atelier di Maria Cristina Bartoli che da 1993, quindi 25 anni di commercio in centro, però chiude i battenti dopo tanti anni dice molte soddisfazioni, ho creato un rapporto con tanta gente anche all'estero, il comune poi lavora bene. Senigallese di origine ma urbinate di adozione, eccola qui l'atelier Bartolini era un punto di riferimento per gli amanti del design e dell'arte. Chiudo il mio atelier in centro però non abbandono la ricerca artistica, benissimo e quindi insomma siamo contenti, il commercio dice Urbino ha tante potenzialità, il commercio va bene, insomma quindi un'analisi abbastanza giusta dell'antiquaria. Chiudiamo con uno degli eventi, uno dei tanti eventi di questo fine settimana, direi che qui a Colli e Almettaro vogliono vincere facile mettendo insieme due eccellenze territoriali, la pera angelica e la casciotta d'Urbino, sappiamo che le pere col formaggio stanno veramente molto bene insieme, quindi perché no? Quindi nuovo evento tra Fior di Piano e Serrungarina, un matrimonio ben combinato e direi proprio di sì, l'avete pensato veramente bene. Quindi questo fine settimana, sabato e domenica, se volete degustarle tutte e due insieme, andate a Colli e Almettaro e c'è la pera angelica, eccellenza tutta nostra, tutta territoriale e la più conosciuta a livello perlomeno nazionale e internazionale, casciotta di Urbino. E poi a Colli e Almettaro, abbiamo detto in apertura, si festeggia anche la Santa Patrona, cerimonia comune nella chiesa di Villanova, quindi Madre Teresa di Calcutta scelta dai fedeli, come dice il sindaco Aguzzi, vedete qui il vescovo Armando Trasarti che presiderà la messa solenne in programma alle 18 nella chiesa di Villanova. Quindi tra sacro e profano, tra cerimonie religiose e per angelica e cacciotta d'Urbino, io vi lascio degli eventi però del fine settimana, ne parleremo più compiutamente appunto sabato e venerdì, ma questo è tutto per questa mattina, grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhi giornali torna domani mattina 730, questo è il numero che potete utilizzare, H24, per segnalarci tutto quello che vi accade attorno a voi o particolari situazioni e il numero della nostra redazione a vostro piacimento e di utilizzo. Bene, grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie.